Gli amici, i fratelli d'Italia dicono che viene prima la riforma presidenziale. Sono assolutamente d'accordo in linea di principio, problema. La riforma presidenziale prevede una revisione della Costituzione e quindi richiede qualche anno e noi siamo assolutamente d'accordo. La riforma dell'autonomia è già prevista dalla Costituzione, è stata votata da milioni di cittadini italiani e può essere portata nel primo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo. Quanto costa l'autonomia? Cazzo, zero costa l'autonomia. Anzi, porta più soldi al vittoriale di Gardone e Riviera, piuttosto che i bronzi di Riace, piuttosto che il patrimonio culturale della Puglia o della Lucania. Pensate che la Regione potrebbe gestirli, invece di spendere 10, spende 9, invece di incassare 9, incassa 10 e quello che guadagnano rimane a Potenza, rimane a Treviso, rimane a Gardone e rimane a Bari. Questo è un Paese più moderno, più efficiente, più funzionale. Qua dentro ci sono i sindaci, i segretari di sezione, gli amministratori locali che possono decidere quanto in fretta l'autonomia diventerà realtà. E ogni voto che arriva alla Lega è un giorno in meno da aspettare.